Arezzo sempre in vetta e a punteggio pieno, la vittoria con il Terra Nova Traiana è stata meno brillante del solito, ma dai e vai la squadra di indiani riesce sempre a trovare il giusto modo per andare a fare male all'avversario, ma a fine partita proprio lo stesso allenatore dell'Arezzo non si è detto di tutto soddisfatto del gioco espresso. La partita è divisa in due tempi, in primo tempo loro tutti chiusi dietro e noi a volte abbiamo sfondato bene da tutte e due le parti non riuscendo a concludere, però è chiaro che in primo tempo tutti noi rischiando solo una volta in un contropiede, in secondo tempo invece loro sono usciti falleggiando, ci hanno abbassato e hanno dimostrato una buonissima squadra. E da parte sua Simone Calori, allenatore del Terra Nova Traiana, si aspettava la forza dell'avversario, non drammatizza. Si sapeva che hanno qualcosa in più sia in campo che anche in panchina e abbiamo fatto la nostra partita, dispiace per loro perché sinceramente ogni volta è capitato che magari abbiamo regalato quel qualcosa che a fine primo tempo ti ammazza quando regali gol in questo modo. Abbiamo avuto anche le nostre occasioni, purtroppo questa cosa ci perseguita nelle ultime partite, ma io sono stra contento dei ragazzi e della prestazione in un campo come questo, è stata una grandissima prestazione per me.